Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il Fatto. Oggi parliamo di cultura perché insomma imperversa l'autunno dei primi appuntamenti della stagione e già è tempo di qualche bilancio in particolare per le attività del Teatro Marruccino di Chieti. Noi salutiamo e ringraziamo Paolo De Cesare, vice sindaco con Delegale alla Cultura. Buonasera De Cesare. Buonasera direttore, un saluto a tutti i telespettatori. Padrone di casa del Teatro Marruccino che io ricordo, lo dico anche, lo sanno i nostri telespettatori che lo hanno visto più volte, ci ha ospitato nella serata di presentazione del nostro palinzesso, struttura con la quale abbiamo da diversi anni una fattiva collaborazione partnership per dare spazio alla comunicazione di tante iniziative che vengono svolte nel teatro. Fiorello Chiello, naturalmente De Cesare, la stagione della lirica che è iniziata con il botto quest'anno perché nel omaggio a Puccini c'è stata una bohemia di cui si è parlato e si parlerà probabilmente anche per anni a livello nazionale. Assolutamente, è stata una bellissima prima della stagione lirica che ha avuto un sold out sia per la serata del venerdì e sia per la pomeridiana del domenica. Devo dire che il teatro continua a crescere, si certifica ancora una volta il punto di riferimento per la cultura dell'intera regione Abruzzo, non solo per la ridica per la quale ricordo siamo teatro nazionale di tradizione tra i 28 italiani, riconoscimento ministeriale, ma anche per quanto riguarda la prosa perché la prosa quest'anno ha raggiunto un ulteriore record di tutti i tempi con quasi 800 abbonati per quella che si prevede possa essere una stagione veramente di grande successo. Si prosegue questa settimana con il Ditti, un po' un insieme tra Leon Cavallo e in queste due opere brevi con il Gianni Schicchi, sempre in omaggio al grande Puccini, poi abbiamo la Cenerentola a chiudere la stagione, insomma abbiamo un trittico di opere davvero straordinarie ancora da gustare e soprattutto anche una stagione che proseguirà oltre che con la prosa con la stagione preparata dal maestro Cavuti, anche con i concerti che animeranno tutta la vita invernale di un teatro che vuole essere vivo De Cesare e ospitare anche le compagnie amatoriali, le compagnie che fanno teatro sperimentale. Esattamente, è proprio così direttore perché il teatro oltre la lirica, oltre la prosa dice bene, ha in previsione una grandissima stagione concertistica e questo lo dobbiamo al nostro direttore artistico che ci ha lavorato alacremente, il maestro Giuliano Mazzoccante che voglio pubblicamente ringraziare per il lavoro per davvero indefesso che sta svolgendo a vantaggio dell'istituzione, ma ancora tutto il Consiglio di Amministrazione e il direttore amministrativo di Martino perché il teatro continua a produrre cultura ma anche risultati perché abbiamo anche una stagione di teatro popolare che è un teatro molto partecipato con le compagnie amatoriali, ma ancora teatro ragazzi, ma ancora questa straordinaria rassegna anche per questa stagione teatrale che è quella di Amami Teatro dove il teatro nel mese di dicembre avrà un'apertura di 5 giorni H24, orario continuato, per ospitare ogni tipo di forma di arte, di cultura, appunto di veramente cultura a 360 gradi dove tantissimi artisti locali, nazionali vogliono prendere parte a questa rassegna perché è un unicum nel suo genere e questo ci ha consentito di andare anche alla ribalta agli onori delle cronache nazionali, della critica e quindi siamo stati meritevoli di attenzione perché il teatro diceva bene, è vivo, ma non solo il teatro, è una città che veramente ha questa vocazione culturale che fa sentire, fa percepire, fa vivere a tutto il tessuto cittadino e non solo ai tanti avventori che si recano a Chieti per le tantissime manifestazioni culturali che questa amministrazione sotto il mio assessorato sta promuovendo e le vedremo anche per questo Natale dove si prevede un programma molto pieno di attività per promuovere le nostre bellezze sia nella parte bassa sia nella parte alta e soprattutto nella rinnovata e ritrovata Piazza San Giustino dove vorremmo allestire veramente al meglio per creare ogni tipo di condizione per far venire gente a Chieti. Molti si chiedono, anche i cittadini di Chieti credo glielo domandino a volte per strada, ma il teatro, la lirica in particolare costa tantissimo, è ovviamente un'operazione in cui qualunque, a meno che non si faccia pagare, ma veramente una cifra esorbitante il biglietto, qualunque attività non ha proventi da poter dedicare poi anche ad una gestione del teatro che possa essere virtuosa, perché sono eventi per i quali le spese superano di molto lo sbigliettamento. Il Comune di Chieti vive una situazione di bilancio che è quella che tutti conosciamo, come si riesce a fare questo miracolo di assicurare eventi di questo livello in una situazione che è difficile dal punto di vista del bilancio delle finanze comunali e soprattutto c'è una prospettiva perché tutto ciò possa durare ancora in tempi così difficili per i comuni? Infatti la cosa che a me più sta a cuore, più mi inorgoglisce come amministratore della città di Chieti che si occupa per delega sia della cultura e segnatamente del teatro marruccino è che non solo ci siano questi risultati e ci sia questa programmazione vincente che veramente sta portando il teatro ad essere uno straordinario punto di riferimento con un tutto esaurito in ogni tipo di rassegna e di palinzesto che il teatro promuove. Ma questo aspetto viene coniugato con il risultato di una gestione virtuosa, con dei bilanci che sono praticamente positivi, che chiudono con un piccolo avanzo di bilancio o che chiudono diciamo pari. Quindi questo consente di non avere quanto purtroppo cagionato nel passato tanti anni fa quindi delle difficoltà economiche, delle difficoltà nel gestire appunto la programmazione ma nonostante ci siano delle difficoltà rispetto ai trasferimenti che il teatro nel corso degli anni ha visto purtroppo che si siano ridotti questi trasferimenti per una serie di contingenze tra la Regione, tra gli altri enti sovraordinati. Il Comune di Chieti che purtroppo nel corso degli anni ha ridotto sempre il proprio contributo riesce a veramente ottimizzare le proprie risorse, a promuovere una stagione di valore e allo stesso tempo a tenere i conti in ordine. Questa credo sia la vera sfida e questo sia il più grande risultato che dobbiamo tributare a questa gestione del Marrucino, ai vertici della deputazione e all'istituzione. Questa è la cosa che più, ripeto, mi inorgoglisce perché riusciamo a tenere i conti in ordine con delle programmazioni di successo e questo non è facile. Lo dobbiamo anche perché sotto la mia, la nostra gestione come amministrazione, nonostante il dissesto finanziario dal quale fortunatamente e per meriti stiamo uscendo perché, come tutti sanno, siamo stati meritevoli dell'approvazione da parte del Ministero dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e ci accingiamo proprio in questi giorni in Consiglio Comunale ad approvare l'ipotesi a recepirla. E quindi però dicevo che nonostante questo dissesto il Comune non ha tagliato in maniera imponente e importante le risorse e il teatro continua ad andare avanti. Ci aspettiamo che la regione ci sia maggiormente vicina ma contiamo su... Anche perché servono delle certezze perché le prese stagioni in maggio vadano programmate addirittura un anno o due anni altrimenti una bohemia di quel tipo non potrebbe non ricapitare più. Dicevo con l'assessore Sant'Angelo ci sono in corso delle interlocuzioni con il Presidente Marsiglio che siamo molto fiduciosi che la regione che è un ente importante e che ha la possibilità e la capacità di sostenere un'istituzione così importante come il Teatro Marruccino lo possa fare in maniera tale, esatto dice bene il Direttore, che si possa programmare al meglio quella che è una stagione importante e che chiaramente va programmata come è stata questa per tempo potendo contare su risorse certe. Perché il Presidente Marsiglio da poco ha preso la residenza a Chieti ed è ospite fisso del vostro teatro. Esatto, viene sempre in teatro, ormai è un nostro concittadino ma ci tiene molto il Presidente così come ci tiene l'assessore Sant'Angelo e quindi confidiamo che possano arrivare maggiori risorse per rendere veramente questo gioiello splendente come merita perché peraltro noi nel corso degli anni, lo voglio ricordare, da ultimo un intervento importantissimo in sinergia con la sovrintendenza, investiamo anche proprio nella parte infrastrutturale non solo nella parte dell'anima culturale ma il teatro è stato rinnovato, è stato ristrutturato, è stato efficientato, è stato... E' arrivato l'impianto di condizionamento qualche settimana fa. Esatto, più accogliente quindi anche il discorso dell'abbattimento delle barriere architettoniche per favorire la partecipazione delle persone diversamente abili, abbiamo sostituito tutte le portone di platea, abbiamo cambiato il sipario, abbiamo rifatto tutta la tappezzeria, abbiamo messo una piattaforma elevatrice appunto e poi soprattutto ecco la novità, questa è proprio recentissima, attraverso un partenariato pubblico-privato e una sponsorizzazione di una fondazione che dall'estero investe e crede nel nostro teatro, che siamo riusciti a intercettare anche attraverso le relazioni internazionali del maestro Mazzoccante, avremo, ed è uno dei pochi teatri in Italia, con il parere favorevole della sovrintendenza, un teatro anche con impianto di condizionamento per far sì che finalmente anche in estate il teatro possa funzionare. E invece quando riapre il Supercinema? Anche lì siamo al lavoro perché la nostra amministrazione è in sinergia tra l'assessorato della cultura e l'assessorato dei lavori pubblici, siamo riusciti a intercettare dei finanziamenti, quelli della linea di finanziamento della rigenerazione urbana, ministeriali, attraverso il PNRR, 20 milioni di investimenti sulla città che rigeneranno veramente tutta l'ossatura degli edifici della città e tra questi, in maniera importante, ci sono tantissimi palazzi monumentali che fanno parte del patrimonio culturale cittadino e mi riferisco a Eden e Massangeli ad esempio che creeranno il polo culturale del Teatro Marruccino perché sono edifici adiacenti sia l'ex Cinema Eden che il Palazzo Massangeli e verranno ristrutturati, restaurati in tutta la loro bellezza e verranno messi a disposizione del Teatro Marruccino. E invece la stessa cosa faremo, sempre gestito dalla deputazione teatrale del Marruccino, per il Supercinema che è in una fase molto avanzata dei lavori di ristrutturazione e di movimento funzionale nonché impiantistico e contiamo per la fine dell'anno, massimo massimo inizi dell'anno che verrà, di poterlo inaugurare, riqualificato, ristrutturato e pronto per una programmazione come da promessa elettorale, da mia promessa elettorale, per una programmazione anche di monosala Cinema Cittadino. In tutto questo in questi giorni si è acceso un dibattito, abbiamo solo due minuti ma mi piace ascoltare il suo punto di vista sul futuro di Palazzo De Maio dopo la decisione di alienazione da parte della Fondazione Bancaria. A suo avviso quale vocazione dovrà avere questo importante gioiello della città? Ma guardi, io intrattengo ottimi rapporti con i vertici della Fondazione Banco Napoli e tra l'altro da ultimo il Comune di Chieti ha designato un proprio rappresentante nel Consiglio generale che è la dottoressa Chiara Fabrizi che ringrazio per la disponibilità e già sono in atto appunto sia con il Consiglio generale di Chieti sia con i vertici della Fondazione e delle interlocuzioni per capire quali sono le volontà della Fondazione, fermo restando che non tutti i mali magari vengono per nuocere e si può individuare una nuova collocazione, ubicazione e destinazione di questo importantissimo Palazzo Monumentale, nonché museo nel Centro Storico Cittadino che è un punto di riferimento importantissimo per la cultura e sia attraverso dei privati volenterosi di fare bene per la città si può segnare e aprire una nuova stagione per questo palazzo così come ci sono degli enti pubblici con i quali stiamo dialogando e si può chiaramente trovare una sinergia per dare, ripeto, una nuova vita al Palazzo De Maio. Quindi io sono fiducioso, le interlocuzioni e il lavoro stanno andando avanti e sono abbastanza tranquillo che avrà una vita sicuramente assicurata il Palazzo nell'interesse di tutta la città. Ultimo minuto per parlare inevitabilmente di L'Aquila, capitale italiana della cultura tra due anni. Chieti come si interfaccerà con questo titolo che un po' riguarda tutto l'Abruzzo. Noi siamo felici di questo traguardo dei cugini aquilani, chiaramente un plauso e i complimenti più sinceri, ho avuto già modo di esprimere a livello istituzionale, lo faccio anche in questa occasione all'amministrazione comune dell'Aquila e all'amico sindaco Pierluigi Biondi che saluto. Chiaramente la città di Chieti come città capoluogo che ha una storia e una cultura parimenti importanti a quella dell'Aquila sarà vicina all'Aquila, sarà a disposizione per tutte le sinergie che si vorranno mettere in campo, fermo restando che anche Chieti e anche noi siamo al lavoro da tempo per un progetto di questo tipo e non escluso che anche noi per l'anno prossimo ci potremo candidare con un dossier importante e cercare di ambire a questo risultato. Per il momento godiamoci il risultato che è di tutta la regione, della città dell'Aquila sì, ma di tutta la regione perché i benefici saranno per tutto il territorio regionale, ci complimentiamo e siamo assoluta disposizione per sinergia, ecco penso al Teatro Maruccino che già collabora con l'istituzione sinfonica abruzzese, al TSA, a tutta la possibilità, l'associazione Teate Nostra di Chieti che è un vanto e può collaborare, insomma in ogni tipo di forma di collaborazione, noi siamo a disposizione per celebrare al meglio l'Aquila e la regione Abruzzo per questo importante riconoscimento. Bene, grazie Paolo De Cesare, Vice Sindaco, Assessore della Cultura del Comune di Chieti, arrivederci, buona serata. Grazie a lei direttore e un saluto a tutti i telespettatori, grazie per l'invito.